Spesso sento dire ho paura di avere una relazione perché non potrei essere ricambiato, magari mi rifiuta, ho paura che mi ferisca, ho paura che mi tradisca, ho paura dell'amore. Queste sono convinzioni profondamente radicate nelle nostre menti e diventano la realtà che poi attiriamo. Quando eravamo bambini abbiamo imparato a credere che l'amore si compra comportandosi bene, abbiamo dovuto competere con i nostri fratelli per avere l'amore dei nostri genitori, abbiamo imparato che l'amore è sofferenza perché magari abbiamo visto i nostri genitori che non andavano d'accordo e abbiamo concluso che l'amore delude. Così ci siamo chiusi all'amore. Trascorriamo gran parte della nostra vita incolpando i nostri genitori, dicendoci che tutti i nostri problemi affettivi derivano dalla loro mancanza di amore tra di loro o dalla loro mancanza di amore nei nostri confronti. Incompliamo anche il nostro lignaggio, il nostro lignaggio femminile, dicendo che tutte le donne della nostra famiglia sono sfortunate, sono sfortunate in amore, non hanno mai trovato dei compagni che le amassero veramente. Incolpiamo il nostro lignaggio maschile per aver abbandonato, per essere stati distanti, per aver tradito. Abbiamo finito per incolpare tutto il nostro sistema familiare perché abbiamo ereditato da loro l'infedeltà, il tradimento, la mancanza d'amore. Le costellazioni familiari servono a ricordarci che veniamo dall'amore, servono a ricordarci chi siamo veramente e quando ricordiamo chi siamo veramente possiamo decidere di lasciare andare la paura di amare, di lasciare andare il passato, di lasciare andare i pesi che non sono i nostri, di non essere leali a nostra madre perché ha sofferto, a nostro padre perché ha sofferto. Noi siamo un'anima nuova, un'anima diversa. Nelle costellazioni familiari onoriamo l'amore che siamo e l'amore da cui veniamo. Impariamo a lasciare andare il passato con rispetto per andare avanti verso il nostro destino, liberi da condizionamenti. Con le costellazioni familiari possiamo chiedere il permesso ai nostri genitori di essere liberi di amare, di essere felici. E ancora con le costellazioni familiari incontriamo la via della riconciliazione con i nostri genitori, con la nostra stirpe maschile e femminile. E questo è uno dei doni più autentici che possiamo farci perché prendiamo la forza dal ramo maschile e la forza dal ramo femminile della nostra famiglia. E così lasciamo andare la paura di vivere, la paura di amare, per accettare profondamente noi stessi proprio così come siamo. E accettare anche il nostro passato così com'è. Per andare incontro ad un futuro radioso pieno di amore, quello che realmente meritiamo.